No, l'hai presa tu? Cultivate l'unwary, se mischi questa probabilmente è un unwary pura Eh, cazzo, a saperlo prima la mettevamo insieme all'unwary, che pirla Perché? Dove l'hai messa l'unwary? L'ho mischiata con una per normale E qua, guarda, vieni Nel terzo Però è rimasta unwary Eh, si, però ora bisogna aspettare che cosa ti da Eh, mi aspettare che mi ridica la principessa E questa è una Cultivate Diligent invece Io ho una Cultivate Unwary e una Cultivate Diligent Le mettiamo qua nella cesta da parte Dobbiamo aspettare questa adesso Ragazzi, quando si comincia con le api Poi la curiosità, ciao, ti lascio alle stelle Common più Cultivate fa la Diligent Lo so, ragazzi, ma è difficile che venga Quasi quasi io vorrei farmi altri frame intanto, va Ah, è proprio perché abbiamo messo il sole frame che è uscita unwary Se no, secondo me è uscito la Diligent Eh, va bene, adesso mi faccio ancora io Sì, sì, ma è buono, unwary è rara Quanti mi sono venuti? Tre giusti giusti, voilà Uno Due E tre Dove li vado a mettere? Questa cos'era, la Cultivate normale Questa era una Cultivate normale Dove li metto? Boh, vabbè, li mettono nel secondo Qui sta andando avanti Ho un sacco di steapisaffron Ma che cacchio servono? Bah Allora, qua sto Io stanotte devo stare sveglio fino alle 3 di notte, ti rendi conto? Perché? Eh, perché c'è la conferenza della Sony che presenta la PlayStation 4 Ah, le 3? Eh sì Adesso fa la Microsoft, alle 3 invece fa la Sony Vado a vedermi la conferenza della Xbox Bene ragazzi, siamo andati a vedere le conferenze Allora è arrivato il momento di chiudere il live Non approfitto Anche se Oh, guarda qua Cosa? È uscito? Un Unwary Princess Un Unwary Drone E la Cultivate drone Sì Per cui faccio l'Unwary con l'Unwary Eh, prima analizzare Magari hanno dei rami Cioè, magari è Unwary Cultivated Unwary Cultivated E ti riesce la Cultivated E ti suggeriscono di Di togliere il Soul Frame Altrimenti ti trasforma l'Unwary in qualcos'altro Perché aumenta le mutazioni Praticamente il Soul Frame Eh, no Perché l'Unwary è rara Se dopo ti esce una Cultivated Di nuovo No, però si fai pure pura Eh, beh Comunque aumenti le mutazioni Ti può uscire Un Un Unwary Cazzo Ma che ne so È tipo Come se tu ci mettessi Delle radiazioni dentro Tipo Cernobyl E ti esce un Ape Con una zampa in più Ad esempio È più o meno quello il senso Allora Cultivate Cultivate Common Perfetto Aspettiamo le altre Allora È infatti L'Unwary è un Unwary common La principessa Eh, appunto Il drone adesso lo vediamo Basta che non è un Unwary common E la puoi incruciare Levando i Soul Frame però Così è il 75% Di possibilità Anzi No, la mia assieme Una con i frame normali È Unwary Diligent Ok Ok Cosa facciamo? Con i frame normali Sì, se i frame normali Levo levo di mezzo Adesso Adesso dobbiamo analizzare queste Questa qua La quella normale Questa avrà finito Questa avrà finito Quasi Ci metto in banalizzare queste Ragazzi Lo so che tre ore Che sto dicendo Vado, vado Non sto andando Perché le api Sono così Le api Eeeh Mettono curiosità Appano Quando inizi con le api Non la finisci più Allora Questa è una Cultivate Princess pura Dai Bravi ragazzi Sono come le patatine Una tira l'altra Poi questo rumore Di sottofondo Di pecore Mi sta tormentando Dai La patatine Sono più buona È una Cultivate Pura E anche questa Sarà pura Dai Per cui facciamo Cultivate E continuiamo Comunque sia Comunque Avevi lasciato il soul frame Là dentro Nella Unwary Queen L'ho tolti Altrimenti dopo Ti escono cose brutte Metti quelli normali Se li trovi a qualche parte Eeeh C'ho i chocolate Allora Qua abbiamo una Cultivate La mischiamo con questa Qua abbiamo le Rocky Balboa Ah È notte Quindi non vanno Comunque Devo andare Sono Sì Devo andare Devo andare anch'io Infatti Basta ragazzi La curiosità è curiosità Ma lo vedremo Nel prossimo episodico Da Luke Su Red Power È tutto Ciao a tutti Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti